Qualche giorno fa mi sono imbattuto nel video di un americano chiamato Manjay TV, il quale ha pensato di determinare matematicamente quale fosse il Pokémon delle caverne più fastidioso di sempre. Incuriosito particolarmente dall'idea, mi sono lanciato anch'io nell'impresa e senza guardare il suo video ho svolto la mia personale indagina. Ora, prima di iniziare, ho due cose da dire. Recuperando il video di Manjay TV dopo aver svolto la mia ricerca, ho notato come, bene o male, i nostri metodi si assomigliassero. Entrambi infatti abbiamo preso in considerazione i soli incontri casuali, senza prendere in esame dunque tutti quei Pokémon il cui incontro è determinato dalla pesca o dallo spaccare rocce. Il tutto sulla base del presupposto che se pesco o se spacco rocce mi aspetto di trovare un Pokémon. E oltre al fatto che le rocce abbattibili nelle grotte tendenzialmente sono poche, il Pokémon che nesce molto spesso è un Pokémon cercato. Se volessimo infatti dare una definizione che vada bene a tutti di Pokémon fastidioso, saremmo pressoché d'accordo nel dire che un Pokémon fastidioso è un Pokémon che interrompe il nostro cammino e di conseguenza un Pokémon il cui incontro nei fatti è indesiderato. E di fatto, camminare in una caverna prima di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, dove sono apparti il Pokémon nell'overworld, equivaleva ad avventurarsi in una distesa infinita di erba alta. C'è però, a mio avviso, nel video di Manjay TV, che comunque ho apprezzato, un errore di impostazione che vorrei evitare. Il fatto è che lo youtuber in questione si pone come obiettivo il calcolo matematico del fastidio, ma il fastidio è un'emozione e non si può calcolare matematicamente. Non basta, come Manjay TV ha fatto, sommare le percentuali per avere poi uno spettro che riesca a rappresentare il fastidio del giocatore, per il semplice fatto che la nostra mente non ragiona a percentuali e conseguentemente nemmeno il fastidio che proviamo si fa influenzare da queste ultime. Ovvio, il fatto che un Pokémon possa apparire più volte in una singola grotta è sicuramente un fattore che contribuisce, ma non è l'unico. Vi faccio un esempio. Poniamo che un Pokémon X appaia su nove piani di diverse grotte disperse per la regione con una probabilità del 10%, mentre Pokémon Y appare su un unico piano di un'unica grotta al 100%. Sommando le percentuali ottenute, dovrebbe risultare che Pokémon Y sia più fastidioso di Pokémon X, ma è davvero così? Io penso che non sia solo l'essere ridondante all'interno di una caverna a rendere un Pokémon fastidioso, ma lo sia soprattutto la sua ridondanza nel gioco. Se un Pokémon occupa ogni caverna del gioco, anche con percentuali talora basse, verrà percepito molto più fastidiosamente rispetto a un Pokémon che appare a tasso praticamente sicuro ma in un unico luogo. E anzi, io credo che avere un Pokémon garantito ma in un unico luogo lo renda non solo non fastidioso, ma renda al luogo stesso una meta per ottenere un Pokémon che nel resto della regione è introvabile. Facendo un esempio molto concreto, io non credo che Diglett sia percepito come fastidioso, perché si può ottenere in un unico luogo, che è ovviamente la grotta Diglett. Ora, chiarito che sommare le percentuali è un procedimento solo parziale e che occorre un altro dato da inserire nel nostro ragionamento, vediamo un attimo di spiegare quale sarà il procedimento che effettueremo. Anziché svolgere un processo meramente matematico di somma delle percentuali, quello che faremo sarà assegnare ad ogni Pokémon un punto per ogni sua apparizione all'interno di un piano. Fatto questo, applicheremo la sua percentuale di apparizione al punto come se fosse un bonus. Vi faccio un altro esempio generale per chiarire meglio. Pokémon X appare su entrambi i piani del Monte Roccioso con una percentuale del 50% nel primo e del 40% nel secondo. Per quanto riguarda il primo piano, il Pokémon otterrà un punto per essere presente all'interno del piano e successivamente a quel punto verrà aggiunto il 50% del punto stesso per avere una percentuale del 50% di apparizione, con il risultato che il Pokémon otterrà per quello specifico piano un punteggio di un punto e mezzo. Analogamente, per quanto riguarda il secondo piano, il Pokémon apparendo con una percentuale del 40% otterrà in fin dei conti un punteggio di 1,4. Sommando allora i due punteggi che il Pokémon ha ottenuto nei due singoli piani, il totale di punti che Pokémon X avrà totalizzato nel Tunnel Roccioso equivarrà a 2,9. Questo procedimento ci permetterà dunque di far pesare sul nostro giudizio tanto la ridondanza all'interno del gioco quanto quella nelle singole caverne, fornendoci tra le mani un valore che rappresenti meglio la quantità di fastidio provata all'incontrare un determinato Pokémon. Resta inteso che ovviamente quantizzare il fastidio resta una pratica errata da un punto di vista squisitamente filosofico. L'infastidimento è un'emozione e come tale non è scomponibile in numeri naturali. Ma noi non la stiamo scomponendo, le stiamo attribuendo un punteggio che ha un valore più simbolico che matematico, il che ci permetterà, più che di determinare in senso matematico quanto sia il fastidio, di tratteggiare i sentimenti generali dei giocatori Pokémon. A differenza del video proposto da Manjay TV, quest'oggi io mi concentrerò sulla regione di Kanto. Per il semplice fatto che reputo più interessante andare a parlare di Pokégrotte, analizzare insieme a voi i dati più interessanti e solo dopo esserci fatti un'idea ben precisa delle generazioni, tirare le somme e vedere quale sia il Pokémon più fastidioso di sempre. Detto questo, ecco a voi i risultati. Premetto che ho deciso di trattare Pokémon Rosso e Pokémon Blu come un'unica entità, considerando le eventuali coppie opposte di Pokémon con stesse percentuali nelle stesse grotte, in due versioni però opposte, come un unico valore. Mentre Pokémon Giallo è stato separato da questi due per ragioni che vi risulteranno evidenti. Partendo dunque dalla primissima coppia di giochi, Pokémon Rosso e Pokémon Blu, i dati in sé non stupiscono più di tanto. Zubat, il Pokémon considerato fastidioso per eccellenza, si colloca al primo posto con un punteggio di 12,53. Dopo di lui, con 9,62 punti all'attivo e 3 di differenza rispetto a Zubat, si piazza Geodude, che è seguito da Golbat con 7,5. Abbiamo poi Psyduck e Slowpoke, rispettivamente da Pokémon Blu e Pokémon Rosso con 6,8. Seale con un punteggio di 6,2. Krabby e Orsi, rispettivamente in Pokémon Blu e Rosso con un punteggio di 6,15. Machop a 6,05. Onix a 5,94. Starryu, ma solo in Pokémon Blu, a 5,79. E infine Marowak a 4,3. La vittoria di Zubat su Geodude è dovuta, nei fatti, ad una presenza molto massiccia del primo all'interno delle prime grotte. Addirittura nel primo piano accessibile del Monte Luna, Zubat detiene una percentuale di apparizione del 79%. E fino al Monte Roccioso, Grotta di Iglet esclusa, la sua percentuale non va sotto il 50%. Nonostante Geodude sia presente in tutte le grotte in cui anche Zubat compare, lo fa con percentuali nelle migliori delle ipotesi uguali e alle volte considerevolmente più basse. La sorpresa, a mio avviso, è rappresentata dalle Isole Spumarine, che grazie ai loro ben 5 piani, che non ricordavo assolutamente, riescono da sole a fare entrare in top 5 sia la coppia Psyduck, Slowpoke che Seal. Il punto però fondamentale da mettere a fuoco è che, nonostante tutto, la classifica si presenta come equilibrata. Insomma, a guardare Pokémon Rosso e Pokémon Blu, la differenza tra Zubat e Geodude non sembra così tanta da giustificare il fatto che quando si parla di Pokémon fastidiosi delle caverne si faccia riferimento solo a Zubat e mai a Geodude, il quale, in ogni caso, all'interno di questa classifica ha comunque fatto una buona figura. Ma se prendessimo Pokémon giallo? Guardate questi numeri. Non solo Zubat guadagna quasi 5 punti attestandosi sull'imperiosa cifra di 17,1, ma Golbat, precedentemente terzo a 7,5 punti, raggiunge il punteggio di 12,1. Non solo crescendo come la sua pre-evoluzione, non solo raggiungendo il secondo posto a scapito di Geodude, ma soprattutto avvicinandosi decisamente alle cifre possedute da Zubat in Pokémon Rosso e Blu. Anche Geodude diventa più comune, ma guadagna un unico misero punto. E a nulla serve la scalata di Graveler, che si attesta a quarto a 6,75 punti. Se in Pokémon giallo confrontassimo il punteggio ottenuto dalla linea evolutiva di Zubat con quello ottenuto da Geodude e Graveler, quest'ultimo risulterebbe appena poco più della metà rispetto a quello di Zubat e Golbat. Seguono nella classifica Crebby a 6,1, Syl che crolla a 4,6, Onyx a 4,4, anche lui in vistosissimo calo. Abbiamo poi Kingler a 4,35, Tentacool a 3,4 e Ditto a 3,3. Quello che è successo in Pokémon giallo a mio avviso è evidente. Zubat e Golbat si sono letteralmente mangiati una quantità incredibile di Pokémon. Soprattutto all'interno delle isole Spumarine, dove se in Pokémon rosso e blu Zubat era pressoché assente, in Pokémon giallo ha delle percentuali importantissime. E questo processo è evidente anche guardando chi occupa l'ultimo posto nelle due top 10 dei due giochi. Se in Pokémon rosso e blu infatti il decimo posto è occupato da Marowak con un 4,3 che è presente tanto nella Via Vittoria quanto in tutti i piani della Grotta Celeste, in Pokémon giallo ad occupare la stessa posizione vi è ditto che appare solo sui piani della Grotta Celeste con percentuali del 5%, del 10% e del 15%. Nei fatti il decimo Pokémon delle caverne più fastidioso di Pokémon giallo è un Pokémon raro e soprattutto non è fastidioso. E la controprova di quello che stiamo andando a dire, se ce ne fosse ancora bisogno, è determinata dalla classifica dei Pokémon meno fastidiosi delle caverne, che in linea di massima sono anche quelli più rari. In Pokémon rosso e blu il quinto Pokémon più raro delle caverne è Magneton, presente su un unico piano della Grotta Celeste con un punteggio di 1,15. Mentre in Pokémon giallo tale posto è occupato da Likitang, presente anch'esso nella Grotta Celeste su un unico piano, ma con una percentuale del 5% che si traduce in 1,05 punti. E se volessimo ancora più girare il coltello nella piaga, proseguendo al ribasso nella classifica dei Pokémon più rari, il sesto e il settimo posto di Pokémon giallo rimangono comunque costanti su un punteggio di 1,05. Mentre già in queste posizioni su Pokémon rosso e blu si arriva a punteggi oltre il 2. E dunque parliamo di Pokémon che appaiono quantomeno in due luoghi diversi. In conclusione di questa mia ricerca, che nei fatti è una ricerca inutile e che solo un fan di Pokémon poteva fare, Zubat è il Pokémon più comune accanto, ma se la sua popolarità si deve a qualcosa, quel qualcosa non è Pokémon rosso e blu, ma giallo. In questa cartuccia si è assistita ad una sorta di sostituzione etnica mutuata dagli Zubat e dai Golbat, che oltre a consolidare il loro mito di Pokémon fastidiosi ha avuto anche un altro effetto che forse era quello voluto, creare una quantità maggiore di Pokémon rari. E questa potrebbe essere la risposta alla domanda più importante, cioè il perché Zubat sia stato così tanto spammato in Pokémon giallo. E la risposta è che forse questo aumento spropositato di Zubat e Golbat è dovuto alla necessità o al desiderio di rendere la sfida del completamento del Pokédex più stimolante. Del resto, nonostante tutto, anche il secondo Pokémon e la seconda linea evolutiva più comune di Kanto, ossia Geodude Graveler, è l'unica, oltre a quella di Zubat e Golbat, ad essere stata resa più comune in Pokémon giallo. Anche se, rispetto a questi ultimi, misura molto minora. In ogni caso, se davvero l'obiettivo di Game Freak con Pokémon giallo fosse quello di creare Pokémon più rari per alimentare ancora di più la sfida del completamento di Pokédex, questo obiettivo si deve essere necessariamente consumato su Pokémon giallo. Ma ciò che evidentemente da questa storia è fuoriuscito ed è entrato nella storia del brand e della sua community è proprio Zubat, che forse il suo malgrado per valorizzare altri Pokémon ha ricevuto la triste nomea di Pokémon fastidioso per eccellenza. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, fatemi sapere nei commenti se vi piace questa tipologia di video e se volete vedere questo video e questi dati anche sulle altre generazioni. Approfitto dalla fine di questo video per dirvi che il background che avete visto in altri video tornerà ma che ho problemi a registrare in quella zona per questioni di luce. Qui mi è molto più semplice, quindi vedrete le cose alternate. Detto questo vi invito anche a fare un salto sui social, in particolare su Twitch per contenuti esclusivi e per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella se non l'avete ancora fatto per ricevere ogni giorno i feed. Dettoci ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!